Torino ha paura. Dopo l'aggressione mortale di sabato scorso in lungo Po a Machiavelli, un altro accoltellamento va a arricchire le pagine di cronaca. Ieri sera, infatti, intorno alle 23, un giovane pakistano è stato accoltellato in corso Principo Addone, a pochi passi da Piazza Baldissera e ricoverato a San Giovanni Bosco. Il giovane ventunenne, dopo essere stato aggredito, si è accasciato nei pressi di Lungodora Napoli, a terra accanto a lui un paio di ciabatte insanguinate e il resto di una cena fugace da McDonald's. A chiamare soccorsi alcuni automobilisti di passaggio, la polizia di Stato è a caccia dell'aggressore. A chiamare soccorsi alcuni automobilisti di passaggio,